La Regione Toscana ha attivato un numero unico regionale per monitorare la presenza di peste suina africana sul territorio. È lo 0573 30 60 55, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Il numero metterà direttamente in contatto i cittadini con il servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente per poter segnalare eventuali carcasse di cinghiali rinvenuti morti per monitorare e prevenire l'eventuale presenza di peste suina. La peste suina è una malattia infettiva che colpisce cinghiali e maiali ma non è direttamente trasmissibile agli esseri umani. In Toscana l'attenzione continua ad essere alta ed è già stata attivata l'Unità di Crisi Regionale per le Emergenze Epidemiche Veterinarie che riunisce ASL, Istituto Zoo Profilattico e Regione, sia a livello regionale che locale, dopo i casi che sono avvenuti in Piemonte. Dopo i dispositivi ministeriali, gli assessorati regionali al diritto alla salute e all'agricoltura hanno così avviato tra i primi in Italia un'operazione di sorveglianza passiva grazie alla quale gli operatori, coordinati dagli ambiti territoriali di caccia e dalla ASL, hanno il compito di cercare e segnalare sul territorio carcasse di cinghiali e analizzarle. L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'eventuale infezione. Sono stati preparati anche corsi di informazione e formazione rivolti ai capi squadra delle squadre di caccia al cinghiale e sempre in estate si sono tenuti corsi di informazione destinati agli allevatori e ai consorsi di tutela del marchio. A settembre, proprio in provincia di Arezzo, è stata avviata infine un'esercitazione insieme agli ATC toscani con simulazione sul campo per la ricerca di carcasse di cinghiali.